Eccoci qui per questa notte di cielo stellato, sta andando via il 2020 per lasciare il passo al 2021, tanti auguri a tutti voi, ciao amici, un saluto da casa mia, dal Prode Fernando vedete questo spettacolo pirotecnico, tra poco partirà tutto, mancheranno 3 minuti all'orario diciamo stabilito, ci vediamo domattina, ciao a tutti, auguri, ciao! Eccoci! 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 Eccoci!